Stupido zombie Quale domanda, uccidi lo zombie bus Ehm, donno Si è impigliato nella ragnatela Ok, di qua Oh, no, oh, 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 sono scemo Dannazione Ecco, ecco, io ci vado, io ci vado C'è una, c'è una, c'è una plate E io non voglio premere la plate C'è un Iron Helmet, 5 di pane Io voglio premere questa cosa, tu lo sai Io ho una voglia impegnente Purtroppo, sì, aspetta, aspetta Voglio vedere una cosa Dove ho le torce Io voglio premerla Sto per premerla Ok, vai, 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 hai la mia benedizione Ma vaffanculo C'è solo la sbucce Mamma mia Che provo che siamo, veramente Proprio, la vediamo l'altro mondo L'hai presa la torce, sì? Sì, sì Allora Aspetta, riprendo Ok, vai Aspetta, ho preso altro passo Pane Fermo Un, due Tre Oh, perfetto Ottimo Ok Tutto mio Sì Però i due Non ci sono Dormiamo? No, tanto erano lì vicino Ma sì, dai Nel senso, dormiamo? No, non... No, dai, continuiamo Ormai siamo qui A me piace dormire Ok, qui c'è una porta di legno E dobbiamo piazzare un bottone che dobbiamo trovare da qualche parte Che credo dall'altra parte Ma anch'io penso così Ok, c'è uno zombie, ci sono tante cose Cioè, ok, allora aspetta, intanto Camilla E la scopriamo che solo gazzano lo zombie avremmo potuto risolvere l'enigma No Allora, qui c'è una leva e spero ci sia una nota Nota numero 6 Aspetta che ti ho, c'è scritto qui Il pervertito Pete, un creeper che non avrebbe mai... Ma penso sia una storia da leggere dall'inizio, penso Axman andy, axed too many questions Ma credo siano tipo tombe Ah, ok Ottimo, ottimo Ok, non mi piace, non mi piace Ah, la cesta però ha un senso che ho trovato dentro l'armatura Ok, ok Ah, ah, I found some clothes to stop this infernal nosebleed It was just sitting there in one of these graves It's not of the machus Ok, wait, there are sounds coming some of the graves Vediamo cosa dobbiamo fare Uh, uh, I'm pulling this lever with the hope It will open more of this temple to me Professor Archibald Cunningham Ok, quindi dobbiamo tirare la leva No, you don't say Hmm, ok, uh Premi la leva, io non voglio avere responsabilità Ah, tannazione Oh Oh Ok, come mai non si Oddio Oddio Ok, ok, ok Ok, magari non era proprio l'idea più intelligente da fare Tirare la leva Tannazione L'idea più intelligente Oh, c'è una cesta qui E lì c'è uno scoletro Tannazione, muori Oh my god Ok, ho trovato il pulsante Ok Ok, ok, molto bene Sei un po' pieno di frecce Oh sì, ho una freccia nell'occhio Va bene, fa male con la mia freccia Allora, il pulsante quanto ho capito va messo qui E ora ci si aprirà un buco pieno di lava sotto le gambe Vai Vai, clicca Aspetta, eh, vai Clicca Aspetta, signore Ce la farai? No Aspetta, vedo se c'è un botoneo quest'altra parte non credo Ah, è possibile No, c'è percura No, è percurno Aspetta, 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 ci riesco a Cicci Ok Scusa, eh, ok Fammi togliere questa minchia di Liana Quindi non hai fatto le regole Ok, penso dobbiamo Vabbè, dai, Liana non è proprio un blocchetto, quindi Oh no, questa roba Oh fan Ok Ah, dannazione Ma questo è tutto, c'è tipo qualcosa, magari, in una cesta, no, sai Qui non c'è niente Ora io farò una cosa molto pro Non è vero Ho trovato una cesta Dove? Dove la voglio? Eh, sì, ma non si apre Dove sei? Non ti vedo, ti ho perso Qui, 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 qui Oh, tannazione, sono cascato Qui, dove sei? Dove? Qui, guarda in alto Vai, vai, eccomi Dove? Ah, ok, ok Come ci sei arrivato? Eh, la Liana Eh, ma a me non mi fa salire quella Liana Eh, cosa attacca dal muro? Oh, tannazione Ah, ok, eh, non la apre, perché non te la apriva? A me me la apre Su serio Sì, sì Che, ti amo, sono io Perché non mi fa tirare le leve muovrico Maledetto, scendiamo a salire Allora, credo che dobbiamo risalire da qua Sì, non voglio far parkour Parkour è brutto Sì, ma a me Vai stato capace di fare parkour Dannazione, iniziamo bene Sì, perfetto Ok, questa mappa iniziava quasi a piacermi, devo dire Non mi piace più Ok, forse ce l'ho fatta Oh, ok Oh Cavolo Ehm The flow of water can wash away the strongest steel Oh, ok Aspetta, aspetta Appena detto che devo mettere dell'acqua qui Penso Io non ho acqua Eh, non lo abbiamo tipo Provo bussaggi che ne so, una rotta in flash, vediamo se devo applicare, devo attivare qualcosa Oh no Mi serve anche dell'acqua Oh, io non ho neanche il secchio, veramente, quindi Eh, anch'io, forse bisogna trovare in qualche cesta Qui non c'è niente Qui non c'è niente Qui c'è una formica come non mi interessa Qui, no Allora, perché qui c'è dell'acqua Ok Mi sa che abbiamo perso un pezzo Qui sopra magari c'è qualcosa, oltre alla cesta Io, cioè Acqua Ok, ok, aspetta, aspetta Aspetta, forse è là sopra No Anche perché non possiamo tornare indietro, siamo fottuti Ah, è vero Oddio E quindi deve essere qui per forza, dai Eh, ci, bene, questo ci aiuta a capire quanto siamo bravi in queste mappe Esatto Attenzione, ok, eh Ok Non è che tipo c'era una nota qualcosa nella cesta che hai trovato Vediamo, allora, la nota più lunga che, oddio Ehm, nota 4, nota 3, soldiers note 2, magari è questa Ehm, gives me the will of my man, ok I wish you could be, eh, eh No, qua non c'è niente che parla di acqua Ehm, da quella la, la capita della nota 4, magari Sssssssssssssssssssssssss sui stessi no no cascini stupendo azione tornato paracura il suo indietro oddio non c'è la più mi sa gioco sta scherzando quando le stringhe non mi interessa no allora aspetta vado a leggere se ci riesco quel dannato per sai vediamo che dice è quello lì che hai trovato sul muro andiamo un po' ah ok ho capito oh ok ora sono ok ok ce l'ho fatto allora the flow of water can wash away the strongest steel no in effetti ci serve dell'acqua visto sono l'inglese ma non c'è ah dall'altra parte non mi sembra di aver letto nessun messaggio quindi vediamo qui c'è qualcosa no qui non c'è niente siamo fottuti ma non c'è niente è impossibile qua c'è dell'acqua dire il vero però come facciamo a prendere c'è non si può prendere non abbiamo un po' ok aspetta 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 forse no no chi si dice che fa ok ci deve essere un modo per cos'è che siamo che possiamo rompere solo le ragnatele solo le ragnatele e o se lo dico se ce lo dice il gioco ma no qui non si può tornare indietro perfetto oh ah 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 ah